What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi e siamo tornati con un nuovo video Signori, oggi prepararvi di un segretone che è saltato fuori in questi giorni Perché in realtà, in verità, con l'arrivo della season 4 sono usciti un paio di segreti molto interessanti Tipo un esempio è la Minigan Ragazzi se andate nel bunker 11, adesso con l'arrivo della season 4 troverete la Minigan Adesso noi abbiamo trovato invece un easter egg riferito a questa Minigan Ma dove signoroni? All'interno della nuova mappa 2v2 Trench Difatti eseguendo 5 passaggi potrete aprire il bunker con all'interno un segreto un pochino particolare e abbastanza strano Ma non vi dico più nulla, guardate il video Quello è il primo in basso sotto quello di cemento, allora facciamo così Bravissimo Quindi il primo è questo Quindi partiamo 4 Allora 4 4, 7 4, 7 9 9 No, sì che so per fare la banzata ragazzi 4, 7, 9 E dove? 4, 7, 9 5 5 L'ultimo quello sotto Quanti anche noi 4, 7, 9, 5 E in mezza strada? Q e 1 4, 7, 9, 5, 1 Ha preso l'app 4, 7, 9, 5, 1 4, 7, 9, 5, 1 Ok, preso Eh madonna quanta gente è morta qua Poi andiamo a prendere il numero di telefono dei pupazzetti Che è sempre quello 5, 3, 1, 2, 5 5, 3, 1, 2, 5 E' un easter egg Dov'è per piacerti tale queste cose No Che garotte vedrà I pupazzetti Eh ma adesso Guarda adesso Io non ho 5, 3 1, 2, 5 Ma questo C'è una macchina che non capisco se è buggata o no? Che è che mi suona? Ok Ma rispondiamo C'è Ho risposto il telefono Oh Davanti a noi Madonno Ha la macchina qua di fianco? Che buggata Davanti a noi dove? Oh eccolo Raga Da strada da destra Sono a strada da destra Fica ma mi secca comunque questo A terra? Ah ma poi esplode da solo Basta Ah niente Lol Oh mi stai sparando raga Le teorie ragazzi sono Diciamo un po' perché Hanno trovato All'interno del bunker 10 Una zona dove Praticamente c'è Un missile nucleare Gigante Praticamente c'è proprio una stazione Di partenza di un razzo Che Attraverso un glitch Sono riusciti ad entrare con il drone E appunto vedere Questo mega 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 Missile Chiaramente ci sarà un evento Hanno pure aggiunto Una ferrovia Che ancora non si capisce Il perché Il per come Poi c'è appunto Come avete appena visto Questo bunker Con Una sorta di Setta complottistica Di Sti pupazzetti Collegati a Questo mega pupazzetto Con due Minigam Potentissime Che ti spamma Adesso bisogna capire Se in realtà Tutte queste cose Sono collegate E Possono avere un senso O avranno un senso Presumo Proprio perché Adesso Uscita da Un paio di giorni Bisogna in realtà Poi capire E scoprire Cosa succederà Quindi che dire Questo video termina qui Ragazzoni Fatemi sapere Cosa ne pensate Se avete Una teoria Anche voi Complottistica Noi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Bello